buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è venerdì 14 aprile vediamo subito l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi oggi vediamo che si festeggia una santa olandese si chiama santa liduina era nata a schiedam appunto una località dell'olanda nel 1380 a 15 anni purtroppo una brutta caduta mentre pattinava sul ghiaccio le provocò una paralisi ebbene santa liduina ebbe una vita molto molto travagliata per quanto riguarda i suoi mali per quanto riguarda le sue infermità e le sue debolezze ciò però non le impedì di essere annoverata tra i più grandi mistici della chiesa questa è santa liduina una santa tutta da scoprire e mentre cerchiamo di capire bene cos'è appunto la vita di questa persona diamo un'occhiata anche le previsioni del tempo ecco sulle marche oggi si prospettano cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge rovesci anche temporaleschi però la situazione sarà in attenuazione nel pomeriggio e poi in serata ci sarà più sereno i venti saranno forti il mare è mosso le temperature si aggirano dai 7 ai 14 gradi e veniamo ora alle previsioni di quello che ci dicono i giornali per quanto riguarda quello che avverrà nella giornata di oggi ma anche quello che è accaduto nella giornata di ieri ecco la città del futuro è una previsione che l'amministrazione comunale di Fano fa per il domani per l'assetto urbanistico della città ebbene l'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi si appresta a presentare il nuovo piano regolatore ai cittadini dopo averlo fatto agli ordini professionali ecco la città del futuro intitola oggi il resto del carlino PRG pronto tutti i dettagli il vice sindaco annuncia si privilegeranno gli spazi comuni piegando gli interessi privati a quelli collettivi costruzioni solo dove è utile ebbene il nuovo PRG sarà presentato ai cittadini martedì prossimo 18 aprile alle ore 17.30 a Fano Marine Center ovvero nel laboratorio di biologia marina in Sassonia quali sono le indicazioni che il vice sindaco sta per dare ebbene il nostro ha detto non sarà un PRG espansivo come quello vigente che è stato approvato dalla giunta a Guzzi ebbene si costruirà dove effettivamente è utile e si privilegeranno gli spazi comuni piegando gli interessi privati a quelli collettivi e poi tra gli obiettivi ha aggiunto il vice sindaco c'è quello di agevolare gli investimenti di qualità nel settore turistico in particolare a sud del fiume Metauro dove c'è una grande prevalenza di alberghi di camping quindi una vocazione turistica più pronunciata e poi c'è l'idea di puntare sull'arretramento della ferrovia speriamo che il governo concretizzi questa previsione e poi di portare l'attenzione su importanti progetti come quello delle Terme di Carignano e quello del recupero di Vittoria del Vittoria Colonna Vittoria Colonna di cui poi parleremo per una ulteriore invasione da parte degli abusivi degli estranei e infine c'è anche l'idea di non ostacolare gli investimenti produttivi insomma si cerca di alimentare l'economia della città pur contenendo l'espansione urbanistica cioè quello di consumare meno spazio possibile ma di incentivare gli abbattimenti, le ristrutturazioni, i recuperi insomma per rendere la città esistente più bella e c'è anche poi l'idea di equilibrare poi l'altezza degli edifici in modo che non si abbattano tutte le villette per costruire enormi condomini che poi provocano difficoltà anche di integrazione nei quartieri esistenti, parcheggi e via dicendo l'articolo di spalla invece del resto del Carlino è dedicata all'attività della nuova Accademia Orafa di Fano ebbene a Fano esiste una tradizione orafa di lunga data e ha avuto dei maestri veramente eccellenti intorno alla seconda metà del secolo scorso grazie all'attività didattica del Istituto d'Arte a Polloni si è venuta a creare una scuola di orificeria molto molto importante sono nati anche degli orafi che hanno avuto un successo nazionale vi ricordo soltanto per esempio Giorgi e poi anche tanti altri ebbene a recuperare questa tradizione si è impegnata la nuova Accademia Orafa che già organizza le sue attività la prima verrà attuata dall'8 al 15 luglio e poi dal 22 al 29 luglio si tratta di un corso post diploma con insegnanti esperti che insegneranno appunto ai ragazzi che vogliono intraprendere questa professione beh c'è anche uno sbocco occupazionale di considerevole importanza appunto a perfezionarsi, a creare gioielli a partire sia dall'idea quindi dal disegno alla sua realizzazione l'iniziativa è stata presentata nella giornata di ieri da Carlo Bruscia, da Silvano Clappis insieme al sindaco Massimo Seri lo vediamo qui in questa fotografia insieme a Bruscia appunto che è uno dei noti, più noti critici d'arte della nostra città anche organizzatore di mostre e parliamo di questa bella iniziativa poi che è nelle colline davanti a Fano su verso Sant'Andrea animali, bosco e laghetto, i tesori del bioparco un bellissimo bioparco tutto improntato alla natura ci sono anche degli animali molto curiosi che fanno la felicità dei bambini e delle famiglie ebbene oggi il resto del calino ci propone un viaggio sulle colline tra Rocco Sambaccio e Sant'Andrea otto ettari di foresta che sono diventati meta di tantissime famiglie e visite scolastiche ebbene le nuove iniziative del bioparco comprendono dall'1, 2, 3 e 4 giugno il festival La Terra dei Pacos quattro giorni con laboratori per bambini, musica e libri il parco ci sta dando delle soddisfazioni commenta Elisa Bilaccioni che ha dato la vita al progetto insieme al marito Matteo Ceccarelli e appunto ad Elisa la maggiore dei suoi cinque figli cinque figli che ha Elisa ebbene otto ettari di bosco con tanto di laghetto immerso nel verde pensate che bel contesto ambientale il bioparco mette i visitatori soprattutto i bambini a contatto con gli animali come cavalli, asini, caprette e alpaca anche alpaca un animale esotico che si è benissimo integrato nel nostro territorio un altro appuntamento poi è stato organizzato per il primo maggio con il titolo con le mani, con le mani ciao ciao vita da Pacos è aperto a tutte quelle persone che cercano un contatto più diretto con la natura ed ora una notizia di cronaca chiama la prostituta lei arriva e poi lo terrorizza ha processo una ventunenne romena e due suoi protettori per tentata estorsione voleva 300 euro da un giovane di torrette invece dei 50 patuiti ebbè questo è un giovane che ha avuto di 25 anni voleva un contatto con una prostituta la chiama combina il prezzo questa arriva a casa sua ma invece dei 50 euro patuiti ne vuole 300 e siccome il giovane non li aveva lei lo minaccia dicendo che ha due protettori lì vicino infatti l'aspettavano in macchina che avrebbero potuto usare anche violenza nei suoi confronti se non avesse pagato i soldi il giovane però non si è fatto incantare e ha chiamato la polizia e ora la prostituta è a processo la giovane però vista la polizia chiamata dal cliente denuncia a sua volta una violenza sessuale il giudice non l'ha creduto in questo momento insomma è ora l'imputata è lei rafforzare la vigilanza sugli scavi è una è una necessità questa per quanto riguarda la tutela di quanto venuto alla luce a Fano in via Vitruvio scavi romani che i cui risultati vengono ritenuti al momento in maniera ipotetica come appartenenti alla basilica di Vitruvio ebbene la notizia ha suscitato tanto tanto clamore via Vitruvio è stata fatta oggetto di visite quanto non mai in tutta la sua storia gruppi di persone si affacciano al grande portone che immette nel cortile dove sono stati rinvenuti i reperti ovviamente tutto è chiuso però anche in maniera precaria insomma non è che si può non è che è stata sbarrata questa grande apertura però insomma si teme per la sicurezza e occorre dunque una vigilanza privata per impedire che estrani entrino e poi magari devastino quello che al momento è stato ricoperto in attesa che gli scavi vengano continuati con un finanziamento che deve ancora arrivare speriamo veramente che questo finanziamento arrivi al più presto perché insomma la cosa non si può congelare come è stato fatto con il teatro romano per oltre vent'anni vent'anni che rimane in attesa di realizzazioni e a proposito del teatro romano ho visto invece un articolo sul Corriere Adriatico che annuncia un qualcosa di nuovo eccolo qua teatro romano si lavora per le visite va avanti il piano di riaprire l'area archeologica del teatro romano a Fano in via De Amicis già a partire dalla primavera del prossimo anno doveva essere aperto per questa estate invece purtroppo occorre ancora un pochino più di tempo firmato afferma l'assessore comunale Cora Fattori l'incarico per il professionista che dovrà predisporre il progetto preliminare esecutivo e definitivo dei lavori per mettere in sicurezza l'area archeologica e di conseguenza renderla accessibile da tempo si parla di questo incarico dato ad un professionista poi sono nati alcuni problemi e finalmente l'assessore Cora Fattori è riuscita a concretizzare questo incarico in modo che ci siano dei tempi certi per l'esecuzione del progetto e quindi poi per l'inizio dei lavori lavori che dovrebbero almeno mettere in sicurezza l'area scoperta per poi intervenire anche nello stabile nell'ex Filanda che dovrebbe essere trasformata in un museo della civiltà romana Continuiamo a dare un'occhiata al resto del Carlino vediamo che a Frate Rosa cibo e ceramica vanno a Braccetto è nata la comunità Slow Food che coinvolge oltre 30 professionisti tra i quali accanto ai maestri della terracotta ristoratori e artigiani se non siete mai andati a Frate Rosa fateci una visita è un bellissimo paese incastonato tra le colline tra la valle del Metauro e la valle del Cesano Frate Rosa ha delle peculiarità molto molto attraenti non solo le ceramiche ma anche il vino è una gastronomia veramente eccezionale giriamo ancora la pagina siamo ad Urbino Urbino che omaggia Zaffarana Urbino con Zaffarana rinnova il rapporto con Eni il presidente dell'ente era stato in città nella città Ducale lo scorso mese di settembre aveva ricevuto non solo la cittadinanza onoraria ma anche il sigillo dell'Ateneo che è il massimo riconoscimento che l'Università di Urbino dedica agli uomini che hanno fatto cose importanti per la cultura per la ricerca per la scienza del nostro paese allora Zaffarana era comandante generale delle fiamme gialle la città ora lo ricorda e consolida il rapporto con grande partecipazione e poi vi annuncio un'iniziativa domani alle 9.30 nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Urbino in via Safi 2 ci sarà un convegno che mira a parlare dei cambiamenti climatici piano del clima dalla regione e i falsi miti sul mondo che cambia ecco il titolo appunto di questo convegno e poi parliamo del paglio della rana di Fermignano non di Fossobrone di Fermignano 57esima edizione siamo agli inizi oggi comincia questa grande bella manifestazione paglio della rana tutto pronto la sfida sarà agguerrita taverne aperte mercatino arceri all'opera una grande suggestione di carattere medievale con trade già cariche di entusiasmo ebbene il paglio della rana si farà si farà con rane vive con rane che non verranno maltrattate nonostante le perplessità e anche le accuse da parte degli ambientalisti questa iniziativa organizzata dalla proloco di Fermignano ha delle grandi delle grandi peculiarità come forza di attrazione ebbene che cosa comincerà oggi dopo l'approntamento del campo d'armi a cura della Pandolfaccia e Popolani in piazza Giorgiani alle 14.30 e dopo l'apertura delle taverne alle 19.30 ci sarà il ritorno dell'assedio alla torre medievale un bellissimo spettacolo questo e poi anche il processo a Donna Laura da Farneta l'ultimo rogo per stregoneria nella storia del Ducato di Urbino una rievocazione di un episodio molto molto drammatico comunque parteciperanno al Paglio la Pandolfaccia di Fano musici del Paglio Corbarios luoghi comuni Popolani e il Dottor Pumba oltre agli arcieri Castrum Firmignani come animatori e poi tante altre iniziative tutto il programma che viene enunciato in questo articolo appunto pubblicato sulla pagina di Urbino e poi riparliamo ancora della chiusura della Contessa parliamo perché questo è veramente un provvedimento importante che impatta sulla realtà locale sociale economica culturale di tutto il territorio non solo di Cantiano che è uno dei caposaldi della Contessa come lo è Gubbio ma anche un po' di tutta la provincia perché la Contessa è la strada principale che porta tutti i cittadini verso l'Umbria verso Roma ma insomma verso il centro Italia chiude la Contessa inizia la mobilitazione da lunedì cambia tutta la viabilità al via un'ampia raccolta di firme tra cittadini e imprese l'obiettivo è quello soprattutto di rispettare i tempi si concedono poi degli sgravi a tutte quelle imprese di carattere commerciale industriale che subiranno dei danni per la chiusura di questa strada richiesta di rigoroso rispetto dei termini di esecuzione dei lavori sono queste le richieste del comitato che si sta formando risposte sui ristori e sgravi fiscali in favore delle attività commerciali e ricettive organizzazione completa ed efficiente della viabilità alternativa le firme per una raccolta che insomma convalidi e rafforzi queste richieste potranno essere rilasciate di persona presso lo studio legale Fiorucci Santioni in via del popolo 15b a Gubbio oppure inoltrate tramite email a studio chiocciola fioriccisantioni punto it con allegato un documento di identità quindi chi vuole appunto partecipare a questa raccolta di firme può tranquillamente farlo diamo un'occhiata anche alle notizie di Pesaro dove si organizza una protesta una protesta il primo maggio contro il Biolab contro questo nuovo laboratorio di ricerca che ha qualche problema per quanto riguarda la sicurezza in quanto si opera in campo sanitario Biolab ora la maxiprotesta fa veramente paura il comitato cittadino che si è spinto molto avanti a questo punto frena siccome a questa protesta organizzata per il primo maggio stavano intervenendo anche esponenti provenienti da diverse regioni d'Italia la cosa stava montando e forse stava anche sfuggendo di mano dice non venite a Pesaro il primo maggio dai no vax alle partite IVA insomma c'era anche il pericolo di qualche infiltrazione pericolosa in questa manifestazione quindi lo stesso comitato ha frenato quelli che dovrebbero pervenire da altre regioni e vediamo ancora sì questa bella notizia che ci giunge da tavoletto è una notizia non è la notizia bella in sé per sé ma è una notizia bella perché ci fa conoscere un paesaggio forse da tutti non ben conosciuto Castello di Tavoleto in vendita è di un privato stranieri in corsa a partecipare a questa asta Sindaco noi non abbiamo i soldi quindi il Comune non può intervenire perché si tratta di un'asta di alcuni milioni di euro insomma è un complesso considerevole lo vediamo qui è una ricostruzione di fine Ottocento ma il nucleo centrale risale al Trecento insomma è una veramente un complesso edilizio di bellezza di grande bellezza oserei dire è suggestivo e poi insomma è di valore di valore venale la struttura ricostruita alla fine dell'Ottocento ma con un nucleo centrale del Trecento ora è chiusa è stata utilizzata per eventi e rappresenta il simbolo del paese la richiesta è milionaria ebbene si tratta di 2.100 metri quadri fatto da 5 camere 8 bagni saloni ampie zone di rappresentanza sala degli armigeri cortili e cucine c'è veramente tanto tanto spazio e poi una soluzione architettonica veramente caratteristica di tanti centri di origine medioevale del nostro territorio giriamo ancora la pagina e vediamo a che punto è lo sgombero della famiglia Moneti questa famiglia su cui incombe lo sfratto che ormai purtroppo è giunto alla fase esecutiva sgombero Moneti l'accordo è stato trovato lunedì la consegna delle chiavi va verso la soluzione il caso del giovane disabile della sua famiglia che deve lasciare la casa che è stata venduta all'asta in tre giorni hanno dichiarato libereremo l'appartamento poi staremo da parenti in attesa di entrare nell'abitazione di Loreto il comune avrebbe trovato un locale per appoggiare i mobili in attesa della nuova sistemazione e quanti ostacoli però hanno dovuto superare questi i componenti di questa famiglia siamo davvero provati hanno dichiarato da quest'ultima esperienza alla quale la vita ci ha esposto non solo la disgrazia dell'incidente la disabilità e poi tutti i guai per lo sfratto che è stato decretato sulla abitazione quando si perde la casa veramente si perde un mondo e poi voglio invece farvi vedere questo articolo che interessa moltissimi cittadini venti di tempesta su Eurovita contratti bloccati si cerca di salvarla tantissimi clienti anche a Pesaro le polizze di questa compagnia di assicurazione hanno avuto la sospensione no ai riscatti dei propri soldi fino al prossimo mese di giugno prima era stato decretato fino alla fine di marzo poi questo stallo è stato prorogato fino al mese di giugno in parole povere questa compagnia di assicurazione Eurovita è in difficoltà si cerca di salvarla di incrementare il suo capitale fino ad oggi si è riusciti soltanto in parte a rimpinguare il fondo di garanzia però ancora mancano mancano ancora tanti tanti soldi è stato nominato un commissario che cerca appunto di riscuotere altre risorse di coinvolgere altre banche per salvare la compagnia sono a rischio le polizze degli utenti che hanno appunto sottoscritto polizze vita polizze pensioni con questa azienda e beh il resto del carlino in parte rassicura non è un altro caso banca marche ma il gruppo assicurativo Eurovita sta allarmando tantissime persone anche nella nostra provincia i clienti sono qui veramente centinaia le polizze di questa compagnia di assicurazioni commissariata venivano vendute dalla rete delle banche soprattutto di credito cooperativo ma non solo nell'elenco c'è anche una banca primaria a livello nazionale come la BNL la banca nazionale del lavoro quindi gli sportelli venivano proposti pacchettati targati Eurovita in primo luogo comunque va chiarito che sono esclusi da questa misura i riscatti e le anticipazioni delle forme pensionistiche complementari c'è anche da dire che restano sospesi appunto i fondi pensione e in genere i contratti assicurativi di un ramo specifico quelle delle assicurazioni sulla durata della vita umana per i quali comunque essendo disciplinati con una gestione separata non prevedono la perdita del capitale almeno questa parte è messa al sicuro ed ora guardiamo il Corriere Adriatico vediamo l'apertura vi ho parlato prima del Vittorio Colonna e ora ne parla più diffusamente il Corriere Adriatico perché recentemente anzi proprio in questi giorni questo grande complesso che si trova all'immediata periferia periferia per modo di dire perché fuori appena del centro storico questo grande complesso che è in disuso abbandonato da tanti tanti anni ebbene è stato fatto oggetto di nuove intrusioni intrusioni nell'ex convitto i residenti sono esasperati si entra da uno squarcio della rete uno squarcio che viene aperto richiuso aperto di nuovo insomma una rete non è che ostacola gli ingressi abusivi così si vanificano i controlli già fatti dicono i residenti comunque ci risiamo è una frase questa che i residenti di via Montegrappa ripetono da diverso tempo perché vedono in continuazione le forze di polizia intervenire appunto in questo stabile e poi dopo un po' ritornano gli abusivi è un problema da risolvere e poi vediamo ancora stop al degrado dell'umidità ora in campo la Politecnica per salvare la chiesa di San Pietro in Valle uno dei più bei edifici del nostro territorio e poi a fondo pagina pulisce la spiaggia dai rifiuti il sindaco premia azzurra una bambina affanese che frequenta l'istituto Nuti che cosa fa? Ebbene quando c'ha un po' di tempo libero pulisce la spiaggia raccoglie le ciche i rifiuti e li pone in un sacchetto ebbè è un esempio di educazione ambientale veramente molto molto bello siamo in conclusione voglio soltanto segnalarvi ancora un'iniziativa che viene da Fossombrone le opere d'arte arredo di luce promuoviamo il patrimonio è un'idea premiata dalla regione sono delle proiezioni che vengono prioritate sulle facciate delle chiese e ritraggono i beni artistici che sono all'interno e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre alle ore 7 puntuali come sempre grazie per l'ascolto a risentirci a domani a domani a domani Grazie a tutti.